Premiani che non siete altro, eccovi il video dedicato a Prem Video e le sue uscite di febbraio 2022. Questo mese ci sarà da ridere, partiamo! Come sappiamo tutti, Prem Video è il più conveniente dei servizi di streaming per rapporto qualità-prezzo, visto che con i suoi 36 euro annui offre altri servizi Amazon e questo non è poco. Qualcosa però sta lentamente cambiando e non è un bene per noi poveracci e plumoni che vogliamo vedere pagando poco. Infatti non so se avete notato ma i canali a pagamento di Prime Video si stanno moltiplicando e con prezzi che vanno dai 4 ai 7 euro l'uno, non è certo poco, ma proprio no. I canali in esclusiva sono prevalentemente Stars Play con serie made in USA, poi abbiamo un nuovo anime generation della Yamato con cratoni animati datati che prima erano dentro a Prime e che mi stavo riguardando per ritornare bambino, ma non finisce qui, c'è anche MGM con film e serie tv che hanno avuto un certo riscontro di pubblico. Proseguendo c'è anche un canale per l'horror, uno per la storia e uno per i film più datati. Passando invece a quelli esterni, ma disponibili anche attraverso Prime Video, troviamo la piattaforma Infinity, quella di Mediaset, poi c'è Discovery Plus con tanto di Eurosport e infine Mubi, con serie e film asiatici di tutto rispetto. Fatevi due conti, ho citato ben 8 canali, che anche solo al prezzo minimo di 4 euro sono 32 euro al mese. Considerando che alcuni di questi si sono mangiati un pezzo di quello che era nell'abbonamento, il calo è netto. Purtroppo però c'è poco da fare. Scusate il minimo disfogo precedente, ma non ho particolarmente gradito, anche se ho compreso l'interesse. Prima delle anticipazioni, come sempre, qualche rapida recensione. Primo fra tutti Tender Bar, che ho visto all'uscita e mi è piaciuto, mi ha coinvolto ed è ben ritmato. Per essere una storia di vita vera è sicuramente interessante, anche se alla fine non ha una fine. È la vita. Questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Consiglio poi l'italianissimo Ariaferma, con Tony Servillo e Silvio Orlando. Ottime interpretazioni per un film d'autore pieno di spessore con dialoghi non detti. Storia di un carcenere che si sta svuotando, bella, bella, bella. Ora ammetto di aver finito la ruota del tempo solo pochi giorni fa, nulla di eclatante, ma alla fine si fa guardare. Storia che trovo molto semplice, che però ha il pregio di permettere di non essere così concentrati. Un fantasy mediocre che a tratti rasenta Shannara per poi provare a raggiungere Game of Thrones. Ho detto provare. Ultimo mio personale sconsiglio è Hotel Transylvania 4. Sono durato 20 minuti, ma per i bambini è perfetto e ben strutturato, solo che a differenza dei primi due, che mi sono piaciuti molto. Questo è meno per adulti, anche forse solo perché ci si va a stancare dei personaggi che fanno cose e le battute sono molto elementari. Sì, ci siamo. Adesso parto con le anticipazioni. La prima novità di cui vi accenno è Reacher, disponibile dal 4 febbraio. Il protagonista è un ex militare che, mentre era in servizio per l'esercito degli USA, girava il mondo come investigatore. Da civile però vagabonda di stato in stato per conoscere da più vicino il paese che aveva servito. La vera storia inizia quando, arrivando in una cittadina in Georgia, lo accusano di essere l'assassino di una persona. Come dire, hanno fatto la loro più grande cavolata. Dal trailer mixazione e deduzione, speriamo solo non si esageri. Avvicinandoci invece a San Valentino, ecco With Love in uscita l'11 febbraio. Si tratta di una miniserie di 5 episodi da un'oretta all'uno che tratta le vicende amorose di due fratelli. Una commedia suddivisa in 5 diverse festività che vuole affrontare temi come lo scopo della vita e l'amore, con quel tono ironico e divertente che nella vita non guasterebbe mai. Sempre a tema San Valentino e sempre in uscita l'11 febbraio, ecco I Want You Back, film incentrato su delle persone che si conoscono mentre piangono sulle scale di un palazzo perché lasciate dai loro ex partner esattamente quel giorno. I due si conoscono e cosa mai potrà balenarli nel cervello? Ma ovviamente aiutarsi a vicenda per riconquistare i loro vecchi partner, che intanto hanno già voltato pagina. Poco importa se per riconquistarli arriveranno a rovinargli le vite. Un film dei toni grotteschi ma divertenti che spero abbia una morale decente alla fine, come vissero tutti infelici e contenti. Ma, ma, ma questo febbraio di Prime Video è solo una lunga, lunghissima e agonizzante attesa di una sola serie, la seconda stagione di LOL in arrivo il 24 febbraio. La prima stagione è stata un successone, l'ho divorata, ho replicato le battute per mesi e ho molta attesa e speranza per questa seconda stagione. Purtroppo il mercato del cabaret è in forte crisi dovuto soprattutto all'idea che scherzare e fare satira sia solo sinonimo di offendere e prendere in giro, quando basterebbe comprendere quest'arte per amarla fino al midollo. In questa stagione di LOL avremo sempre dieci protagonisti, col matano, al posto della Mayonki e addirittura un riesumato Mago Forest. Però la finalissima, se non la si vuole smorta come quella della prima serie, va fatta tra Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti, maestri dell'improvvisazione surreale e inaspettata, due geni assoluti di due epoche e media differenti ma immensi. Mettere questi due in una stanza assieme è come mettere me e un pulsante in una stanza vuota. Tu non sai quando, non sai perché, non sai nemmeno come, ma sai che io lo premerò quel pulsante e devi solo sperare che non sia collegato alla distruzione del mondo. E così siamo arrivati alla fine di questo video. Prima di alcune parole conclusive ricordatevi però il mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre pronti a guardarvi un mio video e a commentare con la prima cosa che vi salta in mente, tipo aggiungere parola scelta dall'utente. E non dimenticatevi pure di divulgare questo video in ogni dove. Questo mese ho deciso di non dare troppe anticipazioni perché il mese scorso ho dato alcune informazioni errate e che mi hanno portato ad inserire arrivi quando questi erano invece nei canali extra a pagamento. L'informazione non è proprio chiarissima a riguardo ed è un ulteriore fattore che mi fa voler male a questi canali extra dal rapporto qualità-prezzo non proprio ottimale. Ma carissimi MTIers, ora è proprio tutto tutto. Al prossimo video. Ciao! Ciao!